Sarà Lublan la scritta che campeggerà sulle maglie del Delfino nella prossima stagione calcistica. Lublan è uno dei marchi della GL Oil SPA, società campana di nola che opera nei derivati del petrolio e degli oli lubrificanti. La sigla GL sta per Giuseppe Langella. L'imprenditore ha siglato con il presidente Daniele Sebastiani un contratto annuale inserendo l'opzione Serie A, cioè rinnovo automatico in caso di promozione. L'opzione Serie A per il prossimo campionato che se loro riescono a salire, e ce lo auguriamo tutti, così facciamo questo salto di qualità e entriamo nel calcio che conta anche noi insieme al Pescara Calcio. Come vi siete trovati? È stato il Pescara a venire verso di voi o viceversa? No, noi cercavamo una potenzialità nel mondo del calcio che abbia spiragli di Serie A, di fare un ottimo campionato di Serie B. E diciamo che Pescara ci piaceva come piazza, abbiamo deciso così, abbiamo interpellato chi cura la loro immagine e siamo venuti a un punto di incontro. Anche perché il mondo del calcio lo conoscete già con altre esperienze? Sì, altre esperienze degli anni passati, anche se sono passati tanti anni, con un altro marchio, Cialoils, che abbiamo fatto il Napoli Calcio di Ferlaino, e oltre la Serie B con il Savoia Calcio di Torre Anunziati. Gancio dell'operazione è stato l'ex biancazzurro Guglielmo Stendardo che ha chiuso la carriera proprio a Pescara. Una chiusura della trattativa Lampo? Sì, è stata una chiusura molto breve perché poi quando le persone sono pratiche e pragmatiche come Daniele Sebastiani si riesce subito a raggiungere l'obiettivo. Da una parte c'era un'azienda che voleva investire nel calcio e dall'altra parte c'era una società che volentieri comunque accettava il nostro invito. Ci siamo seduti, abbiamo stipulato il contratto e abbiamo raggiunto l'accordo. Pizzico di nostalgia del campo, come ti trovi in questo tuo nuovo ruolo? Come si fa a non avere nostalgia del campo? Il calcio è stata la mia vita, a Pescara ho chiuso, però nonostante abbia chiuso il rapporto contrattuale di lavoro resta un rapporto d'affetto, di stima reciproca con il Presidente, con la piazza e quindi quando torno sicuramente ci torno molto volentieri.